Prontissimi, come sempre, come tutti i venerdì 6, da noi voi ad Ege Mesa, in diretta, aspettando le vostre voci alle 2640 771, tantissimi collegamenti in stasera, tantissimi argomenti differenti, professore Bampi, come andiamo? Beh, andiamo bene, contenti anche perché accompagnavi un importante riconoscimento. Importantissimo, un massimo che se poi avevi a Sena, il grifo d'oro, lo vediamo immediatamente Oua, lo è anche bello. Sì, sì, lo è bello, quello lì lo è in sigillo, che, allora, intanto chi sono i besti che sono lì? Il grifo attanaglia sotto l'aquila imperiale che attanaglia la volpe pisana e che è scritto un giro in latin come il grifo alle unghie e in questo modo afferra i suoi nemici. Quindi, siccome c'è la volpe pisana, siamo prima della battaglia alla Meloria e quindi siamo ciò o meno in tamaitè du 1200, quindi 1250, dimo, tanto per pisana idea. E Sena a fin du 200, quindi con la battaglia di Cursola 1298, praticamente è padrona di tutto il Mediterraneo. Questo riconoscimento, lo è stato detto da Uscini Cobucci a un professore Bampi, in qualità di presidente da compagna, è un valore incredibile per la vostra associazione. Sì, lo è stato detto da compagna, io solo lo retiò perché qualche giorno deve pigiarlo, però questo è un riconoscimento alla compagna, quindi voglio dire che abbiamo trovato gioco per un vento e noi fanno pisana per queste cose qui, organizzando conferenze, presentazioni di libri, spettacoli musicali, eccetera. L'anno che viene ne facciamo cento, facciamo di festeggiamenti, ma siamo contenti di questo perché veramente è una cosa che ne è un po' che è gioia. E anche agli altri del primo canale, perché un rapporto è stretto, strettissimo con la compagna all'inizio di novembre, che è Sayana Sayang, che tutti gli anni dedica da Liguria anche proprio i premi annuali da compagna, che è la motivazione che vediamo, il grifo, se le eseli, il professor Bampi, all'associazione accompagna per l'indispensabile e fondamentale impegno al servizio della città di Genova nel conservare, promuovere e di divulgare il patrimonio culturale genovese. 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 Complimenti a Lua. Femme saluta però l'ospite di questa seia, un amico, una riva da Valescrivia, Gianfranco Peiretti, per parlare di una cosa importante che non sapeva come rende in Genesa. Facciamo l'associazione? Sì, cari, siamo qui, che teniamo, che teniamo, che teniamo, che teniamo a voi altri. Benissimo. E a Lua, ne parliamo tanto, però che è una telefonata, anche un prima di dive e domande. A Lua, chi l'è Cugnatri? Buonasera. Campomont. Prego. Ciao Francesca di Campomont. Campomont. Il programma è il programma di Campomont, è bellissimo. Segui. È bellissimo, bellissimo. Complimenti. Ciao, Poltana. Un saluto. E Bampi. Bene, grazie signora e grazie anche di complimenti per quello con l'estetto che siamo festival. Ne vediamo in tocchettina anche stasera, perché in tanti, a settimana passata, ne hai detto bene, fai tu vede sulla preferenza del professor Bampi, ci mandi là, fai vede tanti e-mail, ne mandò anche qualcosa altro. Per esempio, se dovemmo stare a e-mail, tantissimi ne hanno scritto in settimana, fai ne rivede quelli matti dei russi giù, che hanno portato con c'è tanta allegria. E allora stasera accontentiamo tutti. Però, proprio su Bampi, le domande di stasera, quali sono? E tu sei 147.7.1, cosa domandiamo? E domandiamo cose, non so se sono facili, almeno forse, prima questa qui, girello, vede come si dice in senese. La seconda? Sì. Quello, quello lì, se io vado buon, buon privilegiato, i nomi, tutti i tre nomi, s'assumeggiano. Ecco, l'unica cosa che dovrei andare a dire, come ho detto, i tre nomi, in qualche mese, s'assumeggiano. Sono ben ben difficili, mi fa, stasera. Dei che sutta, solo i bui, non puoi telefonare, stasera. E tu sento, sei 147.7.1, a carrega tua, l'empoci facile invece è quella, rispetto agli altri venerdì, Upertuso in Tamiaggia, chi è questo personaggio? Upertuso è ben ben largo, stasera. Se capisce con certa facilità, a carrega tua, del Davide Sacco, telefoni averti, fin da ora, dè che sutta. Però, proprio su Bampi, prima di parlare di quelli che seppigiano cura degli altri, di quelli che ghe tegnano, udiva Gianfranco Peiretti, Beh, che è in qualcosa di speciale da annunciare. Ah beh, sì. Posso tenere a darvi su, a domenica dopo pranzo, un amico, il monumento vivente da Liguria, dell'arte contemporanea, ma subito tutto una grandissima persona. Domenica dopo pranzo, a darvi su, a se festezza i 90 anni di Giovanni Poggi, un mestro con l'M maiuscola da ceramica, Giovanni Olechie, 90 anni e non sentirli. Com'anemo? Pronto, buonasera, grazie a tutti. Andiamo molto bene. L'importante è che continuo anche un tempo. Sperremo di sì. Segui. Senti, ma cosa succede domenica in Tateoio Bitega, Alice e l'Aurelia? Eh, mi spero di avere tanti amici. Spero che ne vengano tante persone. Niente, ne mi invita, perché la festa per me è molto grossa. 90 anni l'entraguardo raggiungibile, purtroppo, ma non da tutti. Ti capisci? Quindi mi scampiva, perché foste tanti amici, essere circondato da tutti questi amici, e a un momento giusto per farlo mettere in mostra. Ecco, quello che tutti mi dicono, tutti quanti, sono sempre contenti di tutto. Quindi, ora vedremo un momento. Domenica, non sappiamo di come andiamo. I nostri registi, sempre precise e puntuali, mettano in onda immagini storiche da tue professionalità, quando davanti ai nostri telecamere, con il professor Bampi, con Sergio Rossi, ti mostrò a questi suoni, che in tuo frattempo sono questi uomini e donne, che sono cresciute, attrava già un tornio. In tuo frattempo, nessuno arriva a altri suoni, che imparò quell'arte lì, così antica? Sì, qualche giorno, sono sempre in assenza che venivo gli altri, in modo particolare Sergio Rossi, me l'aveva promesso, ma non mantiene la promessa, sperando di fare ancora, continuando con i tuoi miei piccini, sperando di fare con qualche allievo, che a un momento attuale non è. Te faccio salutare da un tue amico, che è promesso però in Mantegna, Franco Bampi. Eccoci, sono proprio contento di questa festa che ti fa iè, e sono proprio contento che effettivamente è un bel traguardo, i 90 anni, e anche bisogna di avere te, se che puoi arrivare, ecco, come ti dimentico. E come però, attraverso i tuoi amici, non ha migliaia di problemi. Ringrazio tutti, ringrazio tutti quanti, il professor Bampi e anche Rossi, perché è da parte di tutta questa schiera di miei amici, sperando di vedervi ancora una volta in fabbrica, tutti assieme. Ma seguio, ma seguio, senti, come va la ceramica in questi tempi? O l'est fischiano sentivo la domanda. Come va la ceramica? Come vanno le vendite in questo tempo ad Arbissua? Noi stiamo travaggianto per questi grandi pannelli, con quest'artista, un artista bravissimo, diciamo, a Bronti, a Reggio Emilia, a Lua, o l'entravaggio che abbiamo per un anno, seguio, dove subito dopo il compleanno riprendiamo a fare questi grandi pannelli. Alfonso Borghi, con l'apertura del primissimo Cian, mi paragono i giorni e l'anno degli anni 60, perché l'entravaggio che uscì non mi è mai più capitato come quello di Iorna, e quindi un affetto, un grosso regalo, certamente, un grosso lavoro. Giovanni, grazie, buon compleanno, veramente, da tutti gli altri. Buon 90 e se vediamo, le segui io, Fito. Grazie a Giovanni Poggi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti e buona serata a Regia. Chi l'è in linea Cugnatri, buonasera, prego. Pronto, pronto, ciao, ciao. Ciao, ti saluto, sono Sari. Ciao, Sari, dini tu tu. Ciao, Sari, dini tu tu. Dini tu tu. Allora, girello, un carriè. Poi? Il crogiolo, un curseo. Oh? Curseo. Mm. E il grumolo, e quello lì, non so, un che, che direbbe l'insalata, se non c'è un grumolo, in italiano è grumolo, non so, puoi. Va bene, a Carregatio ti l'hai indovinato? No, non l'ho vista bene. Taffemo, rivede. Ho perduto in Suntamiaggia, firmò da Davide Sacco, come sempre, a fin da trasmissione, vediamo integrale, per scruvi chiulè questo personaggio, sempre li go, in qualche modo, a Sena o a Liguria. Sì, sicura. Va bene. Ciao, Sari, grazie, un saluto e un abbraccio. Ciao, Sari. Allora, Gianfranco, andiamo a vedere poi anche qualche immagine, ci tardi, da vostra attività. Che associazione l'hai a vostra? Di cosa vi occupate? Ma, noi altri ci occupiamo essenzialmente di assistere i malati oncologici. allenata da un gruppo di Marotti che si è stato curato a un spiagaliero dal professor De Censi e che hanno uscito a mettersi insieme per aiutare gli altri. Ommi, donne, tutte e te? Tutte e te, ma prevalentemente donne perché le statistiche dicono che non c'è donne che sono uomini. E cerchiamo di capire, stasera con il vostro logo, chi è come si può aiutare, cosa si fa, ma subia tutto, insomma, di cosa vi occupate dove sei fisicamente. Dito questo, andiamo in reclamo a spedìa e tu sento 640 771 da un venerdì 6 in diretta da noi voi a De Gemesa per rispondere alle domande del professor Bampi e poi attacchiamo con tante altre sorprese dopo il reclamo. Arriviamo. Liguria anche in diretta come tutti i venerdì 6 da noi voi a De Gemesa aspettando le vostre ciamè e domande dove il professor Bampi come sempre sono tre domande a venerdì 6 a voi femmo rivedde a prima le questa che è alla riva proprio il professor Bampi e risposte sono tutte abbastanza scimili in senese. Girello. Il crogiuolo per... Aveva dei problemi anche individuali in italian se non lo vedesse. E il grumolo con le a parte gianca dalle tuega o che dalle tuega. E tu sento 640 771 per indovinare per indovinare anche a garregatio a De Davide Sacco ma ne fa piacere ritornare con Gianfranco Peiretti c'è l'argomento importante di questa 6 anni come sempre Liguria anche usare quando può all'entroterra ma usare anche associazioni e a solidarietà. Chi che è anche da scientificità in tuo mese con questa associazione che riguarda la regione, l'Italia, il mondo? da dove sei partito e da dove vuoi arrivare? Noi siamo partiti da un professor decensi che è un oncologo di fama internazionale che è iscritto all'ARC e quindi è una personalità. Noi altri finanziamo anche ricerche il nostro piccolo perché siamo nascendo 4 anni fa ma abbiamo già raccolto dei fondi e abbiamo destinato per esempio a studiare gli effetti dei vaccini del covid in questi pazienti oncologici. Per esempio vedo una fotografia là una foto di squadra che veniva da lì l'ultima foto che abbiamo fatto due giorni fa sono andate al presidente che è la MMUG a Rosanna Chieri con il nostro consiglio direttivo e noi in tuo reparto il professor De Censi per presentare l'associazione per combinare i programmi da fare nei prossimi mesi. Chi vuole seppi già contatti con Viatri a Giuteve che vedo in Milite anzi il presidente da Croce Verde di Bisalla il presidente Cunigio il presidente Cunigio che devo ringraziare pubblicamente perché ha detto la possibilità di avere una sede in Valle Scrivia in locale presso quella bella sede che ha Croce Verde di Valle Scrivia e gli altri collaborano con gli altri. Professor Bampi ho fatto entrare in trasmission con una promessa di cambiare il nome dell'associazione con una traduzione in zanese ma sei puoi entrare perché mi hai detto e che hai conto al professor che appunto il presidente di Tio Mugè a fare scuola di zanese sì mi è Mugè una maestra e insegnante elementare e tanti anni fa ho avuto l'opportunità di andare con il professor Bampi che veniva da Immacolatina di Ciasa Paola da Novi a insegnare in zanese e cantava mi ricordo che hanno canto Ma se che penso e poi ne vediamo in Tocchettino Ma se che penso Professor Bampi come si può riempire We Care in zanese? Mi diceva che teniamo che teniamo sottotitolo allora che teniamo che teniamo telefonata dal Gia? No però Professor Bampi a proposito di questo allargamento che femmo aspettando le vostre risposte mi raccomando che teniamo le vostre voci allarghiamo gli orizzonti come sempre andiamo in Trutera andiamo in Vubbia stasera sotto il castello d'Apria perché lì Domenega che è un avvenimento storico che Gianfranco credo conosceva ben stando in quelle zone lì e Petravaggio beh ritorna a Castagnata e se poi in questo periodo che sono un po' da tutte le parti ma a Castagnata abbina a Mostardella di Vubbia si trova sull'Ulie e a lui Gianni Toregino che da quelle parti l'organizza tu insieme a tanti altri amici un'ecunta cosa si fa a Vubbia a Domenega da mattina o dopo pranzo ciao Gianni una buona sei Buonasera Buonasera a tutti cosa succede lì ho visto le foto clamorose di anni passi tanto entusiasmo di Mostardella che ha intanto contiene un po' cosa è questa Mostardella perché non la conoscesse questa Mostardella qui ha una mese trovata in Valha Valescrivia e un salame di bovin con un po' di maiale con un po' di spezie e via ora poi siamo riusciti tra chi è Santorsese a farlo mangiare con panini e tutto vedi che ciò legge dei crauti le movimentate tutte che in Vubbia per cercare di variare questo piatto e poi che castagne praticamente Castagne e Vubbia è l'imposto che siamo messi dai castagni e passò il problema giusto della malattia ora si riparte tu non è anche buone che ne è anche parecchie ti vedi che questa è l'entitè gente che partecipa con un sorriso contente e questa è chiusura sembra anche una struttura molto valida quindi la gente viene anche a vedere per quello motivo lì E allora questo succede domenega questa è in Vubbia domani invece sa che ti hai menzionato Santorsese ritorna quell'appuntamento con il protettorato del salame del Santorsese quello che ha coinvolto l'anno passato anche il professor Bampi con la protettura del salame del Santorsese domanda un po' se hai investito di questo protettorato anche il presidente della regione Giovanni Totti invece domenega tutti in Vubbia per consacrare laicamente a Mostardella e Castagne se puoi dire Gianni che è un giorno promozionalmente più importante per il vostro paese eh sì praticamente tutto l'anno andiamo fieri siamo sempre aumentati sempre tutti questi articoli che banchetti che gonfiabili insomma che è un bello giro di attrattivi bene bene ho fatto una domanda dal professor Bampi ma prima precedenza sempre a Viatri da casa che è una telefonata in linea buonasera chi parla buonasera sono Ginetta Ginetta ciao prego allora il primo è un cario poi il secondo non mi viene e il terzo mi dicevo un garbuccio un garbuccio a carica tua ti l'hai indovinata? come? a carica tua ti l'hai indovinata o per tu? no quella non sono riuscita va bene grazie in saluto forza con questi telefoni a linea lea a verta domanda dal professor Bampi per tu regini parlando sempre delle mostardelle quindi avendo come riferimento santorsese la mostardella è un po' ciò che avanza dopo che te hai fatto il salame per esempio ti devi a toccare quando sei impasta quei die se hai innervato una cosa ti allevi e poi ti fai questa mostardella quindi lea i mangia povio del resto mi vedo che lì è cojan perché è anche un po' grasso quindi bisogna metterle in scena allora la domanda a lei quello che ho detto mi ha le cosci quindi viate valorizzare la mostardella per quello che a lei oppure a lei qualcosa invece di più nobile rispetto a quello che ho descritto mi non senti pensi di chi cangia tutti i prodotti prima magari che hai un ghiaccio fame o hanno dovuto raffinare il prodotto e accompagnarlo anche con altri prodotti insomma cerca di accompagnarlo tutto lì e la faccenda che questa mostardella ha sparito il classico nervetto che invece ho venuto e rifilato va bene ma aspettavo qualcosa così perché per esempio la mostardella che viene fatta Sant'Orsesa le fatta l'antica ed effetti avvenne fatta proprio per mantenere quella tradizione che invece è qualcosa di diverso e sai anche un po' meglio perché non è che se c'è una cosa particolarmente squisita quella della tradizione lei ha mangiato povio a risposta l'arriva da un addetto ai lavori per eccellenza perché non l'è mudito ma Gianni Torrigino l'è anche magellà in tappati specie un record speciale dove un laboratorio cipicin d'Europa della quale lui va molto fiero e guarda quanta gente e che bello ambiente hanno costruito in Vubia bisogna prenotare per venire? sì allora siamo ai sui che è sassi seppulenta e lì bisogna prenotare ma mi fa che sia sattuto più perché chi ha giornato è bella e quindi se serve e castagne invece poi non venire anche senza prenotazione con i bambi no? ormai non ci anche quelle dopo due ue castagne e mostardella e voi veniremo a vedere il panorama proprio sul bambino sembra che non che seggia gente che la sanno i posti beh però credo che dopo una stagione cuscina e ste cuscine seggia anche bello non ritrovasse in autunno pedì che fosse un peso per quello che riguarda emoti e poi purtroppo il contesto internazionale ne sta contando anche di peso però che con i fai qui ci ho assegnito a gente anche qui di gia di visitare anche un castello d'apria che ho sentito di castellani che parecchia fluenza quello lì anche qua facendo le panchine che molta gente che gia vengono 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 che cruce fieschi che un po' di rivalità tra i due paesi mi sono originari ma è proprio che fieschi però mi sono vubbia puro e getegno a dive che mercoledì sei a mercoledì prossimo viaggio in Liguria all'agna anche a cruce fieschi da nascinù a capreparia proprio davanti alle telecamere pulenta e mustardella per tutti quelli che non fissano riusciano in vubbia domenega Gianni grazie complimenti a ti a tutta l'organizzazione per l'uolo che fa da tanti anni perché hai raggiunto di numeri importanti per castagno e mustardella che di usciuna lei? Sì siamo a quarantatresima castagnata e ventunesima di mustardella complimenti e con tanta fame grazie Gianni in saluto che è una telefonata però credo anche un po' domande del professor Bampi chi l'ha in linea con Gnatri buonasera mi sono sbagliato un glumolo allora mi ho sentito da gente che diceva Gianco Ducco Gianco Ducco per aver due ti intendi glumolo grumolo benissimo va bene grazie grazie in saluto regia a proposito di appuntamenti andiamo a vedere anche a Locandina da Paella perché tra i tanti appuntamenti di questo fin settimana che ne domandò è anche questa beneficio da protezione civile di Sena e a lui all'appuntamento la invia Saracco 4 a Borsoli in tasseian di domani 15 d'ottubre Paella e Sangria posti limitati per notazione che vedei con un numero in suvia impression con l'incasso totalmente devolue per associazione della protezione civile dei sestri sestri ponente professor Bampi ripetiamo un momento e domande perché vorreggiamo avere veramente tante telefonate stasseia a particolarità e le risposte che sono tutte uguali no? sì simili molto molto simili e a lui ripetiamo un momento ripetiamo il girello poi il crogiuolo e infine il grumolo la parte bianca insomma come diceva Ujango Ducò la parte bianca del cavolo ma anche della lattuga Gianfranco se sente di lesendo i giornali e sentendo le televisione che a percentuale dei tumori si abbassa sempre dei più inti sueni e inti suene non è un argomento ovviamente felice come i toni soliti dell'Igurianco ma l'è giusto come diceva professor Bampi con Uzenese parlare di tutto e parlare anche di cose evidentemente più pesanti alle cusci o più Renu? ma è probabilmente sì perché c'è prevenzione la via che si muove meno del tumore perché c'è prevenzione che si interviene rapidamente e infatti una delle cose che facciamo come associazione è proprio promuovere informazioni in tal gente che è gente che segua che faccia esami preventivi che non trascrive ogni segnale e infatti avevamo con il comune di Renuco scrive lunedì 24 che avevamo in sei anni con il professor De Censi che veniva a Renuco scrive e mi ringrazio a Rosa Olivieri e a Sergio Agosti che hanno ospitato che hanno scindico che hanno ospitato a Renuco scrive e parleremo proprio della prevenzione ed è anche un po' questo spirito dell'Igurianco alternato leggeri a toni più spessi appuntamento dunca 24 a Renuco scrive per parlare di prevenzione e per parlare di meigina e falo con di toni un po' differenti rispetto all'emergenza se fermiamo in secondo a spedia i telefoni restano averti aspettando le vostre voci e quando ripartiamo parliamo proprio su Bampi del mondiale del pesto perché ci che arriva ogni due anni ma la macchina di quella roba lì va avanti sempre costantemente perché bisogna trovare poi i cento finalisti che arrivano a pagio in tuo 2024 e allora è successo qualcosa nell'intruttare in tuo fin settimana arriviamo lì in diretta come tutti i venerdì sei da ne vuoi ad Ege Mesa per parlare con gli altri per rispondere alle domande del professor Bampi poi ne vedete in replica in tuo fin settimana su canale Ege o su Sese lì ovviamente non puemo interagire parliamo di tante cose stasera soprattutto a regia vi sta facendo delle domande del professor Bampi a carica di Davide Sacco se vuoi dunque puoi rispondere poi parliamo anche di sanità di prevenzione di come prevenire i tumori e su vi ha detto come curare in tempo sento che i telefoni trillano che è una telefonata chi è una telefonata chi è in linea lui a Cugnatri buonasera ciao buonasera sono Alessandra da Zena sì dimi allora e tre e tre cose di Bampi non esco però la carica ora conosco bene sì ho leo maurice o l'Africo ti dici eh ma ho perduto subito giù le largo bene anche perché si vede che ha cacciato su professor Bampi qualche ciappella stasera perché normalmente non non vengono in effetti poi che quello salame lì che è una guaccia che puoi eva di che le ligò in qualche moda santursese d'un dell'astrico che ha origini chissà vediamo grazie in saluto Alua a questo punto se diva du pesto perché le vea che in ta prima vea passà che è stata a finale che è stata una campionessa proclamata proclamata suena tra l'altro che porta inerto a bandea di questo manifesto gastronomico zenese ma bisogna trovare altri cento finalisti per l'edizione che arriva da chi ha due anni in tu 24 e a lui come se fa se va in tipaigi in te grandi sitè vicini e distanti da sena per esempio il patrone panizza non ha fatto problemi ad andare a Mignanego e a di veglianà proprio lì perché è un entusiasmo vero genuino sincero da parte di figi del posto ha organizzato tutto all'esteta una suena che diciamo Eleonora Germino sui bar all'ateria ha messo dei getto a strada lì lungo a statale e ha vinto all'esteta una suena che dice Romina Brazzi che sono tutte e due credo buonasera buonasera che è l'organizzatrice che è avincitrice Eleonora perché Eleonora perché questa idea andando a vede anche tante fotografie che effetto effetto anche immagini cudrone panizza o la dito è difficile trovare un entusiasmo cuscì ma in tipicoli paesi evidentemente siamo forti anche per questo perché l'idea di portare un campionato di pesto o mortare a Mignanigo ciao Gilberto ciao perché Eleonora questa idea niente avevo voglia di avevo quasi di fare qualcosa di diverso per Mignanigo da dare un po' nascosto un po' di 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 ecco perché che è sempre tutto lì un po' cuscì un po' tisiano i genesi non osano guai allora mi sono dita devo fare qualcosa da spronare un po' sto paese per me bottega e per Mignanigo stesso e per Mignanigo il professor ti stava ammiendo di traverso e io dico che mi ha visto questa chiesa perché stai in terra in tappuntate quelli che provano a a pijali si da proprio su bambi le passo 3 o 4 anni non so in tuo frattempo se hai fatto di cursi a distanza con la pandemia oppure no ma però Mignanigo se parla senese capito però non credo che come prima lingua Eleonora abbia un senese dunca un sacrificio importante si tra l'altro le parole non sono tante le parole che non dicono in senese quindi voglio dire che un po' le stesse rimesciore allora a un 6 mi fa di capire che arriviamo forse prendiamo anche un 6 mese Eleonora mica male si mi raccontento abbiamo visto le bellissime fotografie non è facile il tuo locale è vicino la stazione ferroviaria di Chang è orizzontale Mignanigo è in paese lungo e stretto non è una cassa ma soprattutto che è stata questa gente che vediamo questa partecipazione credo che sia a Vitoia più bella sì è stata una soddisfazione bellissima perché mi trovo già tantissimo poi si usa assiosa come sono non guardo neanche la notte che è stata un po' un'organizzazione particolare e grazie anche al tuo aiuto perché non ti ringrazierò mai abbastanza però la cosa che mi faceva piacere fare era i dettagli che fosse tutto bene ma è riuscita è riuscita e a campionessa che ha portato inerto il nome di Mignanigo appunto lo diciamo a Romina proprio su Bampi lo vediamo in tuo resto do schermo da televisione questa figetta qui è la prima da linea che ha guagno lei ha dice il pesto la cugina senese sono a me e ma cosa lei ha fatto la differenza davanti ai giurati davanti a Panizza davanti a scendico di Mignanigo Romina come ti hai fatto a guagnare non lo so ma mi sono dettaglio e ho una affronta per Mignanigo e Mignanigo mi porta bene allora ti faccio salita anche dal professor Bampi che in casa Bampi di pesto e di mangiare Bunga se ne intende ha un merito anche da Bampi Viatri il pesto come lo fai professor? ma se devi ammortare o se va? ormai mi ricordo anche Mignanigo dove favo andavano il pesto dove avevano fatto con il pesto originale però anche quando ero figlio mi ricordo che si fava ormai col frullatore e andava via e andava avanti e effetto anche delle immagini aeree con il drone grazie al volontariato Eleonora queste sono immagini credo firme da un vostro amico Carlo Campora ma su via tutto costa l'estero ci bello per via e poi sentimo Romina per me la partecipazione dei miei clienti che è stato cao che fisse qualcosa di bello una soddisfazione petrava già perché odio l'ipocrisia quindi è inutile che stiamo qua a dirlo però proprio una soddisfazione personale che mi basta bene Romina invece per te cosa le stette la cosa più bella per me è un bel paese ma la gara del pesto non è falso grazie Romina grazie a gode dell'inno di Marzari alleate trage fissa dobregio naturalmente inventò ma esso eccetera eccetera quindi ma stavo scordando cantato cantato da Marzari Romina grazie Eleonora grazie complimenti a lui a Romina porti a inerto insieme a altri 99 finalisti un'umede l'erta valpulsevia in televisione di Palazzo Ducale del 2024 grazie a questa competizione in plauso speciale ovviamente a Panizza che va in tutto il mondo per divulgare il pesto anche la Camera del Comercio di Sena proprio su Bampi ma veramente l'estetto in qualcosa di straordinario inventasse questa formula a prescindere dall'eliminatoia è una cosa che quindi avance il territorio è un territorio per serni quindi anche con maggiore puntualità non so come dire a proposito di mangiare professor Bampi non è molla ancora il suo amico Cabella che domanda dopo pranzo al Santolcese che sia protagonista dell'investitura dei nuovi protettori del salame di Santolcese con una cerimonia che premia tutti quelli che seggian politici che seggian economisti che seggian meghi o avvocati che si impegnano per tutelare il salame di Santolcese e lo dice mortadella salume derivato dalla lavorazione del salame di Santolcese ottenuto macinando le cartilagini bovine e la pancetta suina tutto il resto imitazioni mostardella no? non mortadella no no mortadella mortadella? ma se la mentola sbagliò non intendeva mostardella mi penso che lo faccia dire Leo dice questo anche parlando che perché lo domandò per questa mostardella che lo domandò perché dimmi sapete non è una cosa prelibata è una cosa povia per non cacciare via quello che le avanzò e Leo ha sempre detto che la continua a fare proprio per mantenere viva la tradizione perché guagno credo che non che seggio però è importante tra l'altro mangiare la cucina è grassa quindi bisogna mettila in scienza secondo me è anche bello a variante da una parte Santolcese dall'altra con le sue differenze e poi dall'altra parte se fissimo tutti uguali omologhe che brutto che noia saieva invece con questa variassun credo che seggio una bella cosa a neghe a vubbia se vuoi apro a domenega dopo pranzo che è nata telefonata però in tuo frattempo buonasera prego buonasera buonasera alle questa bene a caricatura ti asè a caricatura mi fa un coso di cosa c'ha ma non so va bene se stava va bene siamo chi va bene grazie in saluto dito questo ti coi parole Gianfranco a me non c'è pigio niente non siamo perdita dito questo ti ringrazio a Cruce Verde di Busalla perché vanno offerte una sede ti hai dito che ho 24 a Runcu fai 6 anni a dedicare a prevenzione in Tuccine di Runcu questo l'invito per tutti quelli che vogliono partecipare e poi Cesena come si fa invece a interagire con gli altri mi trovò a Gigliola Pantani che ringrazio pubblicamente che cazzo la possibilità dell'Oua in questa squadra di estetisti è una squadra molto particolare perché è una squadra di professionamento e lei insegna a Stefanie proprio l'aspetto oncologico l'approccio verso un marotto oncologico perché l'aspetto psicologico è fondamentale Allora prima di andare in reclam anticipiamo un po' i tempi professor Ubampi perché mi piace che se c'è ancora un po' defermento le domande del professor Ubampi ma due esce due invece e indovinò a caricatura dell'Astrico poi mi svelalo anzitempo proprio Maurizio Maurizio l'Astrico la uscì mandare un messaggio sapendo che avessimo parlò delle in questa sei anni andiamo a vedere un messaggio di 30 secondi con Amando via grande grazie da come come città e teatro in generale Maurizio Lastrico e stiamo in qualche modo l'Ighè a Sant'Urseise perché l'Ighè è un salame con la disegnò Davide protagonista dopo pranzo e a l'Ua questo è integralmente Maurizio Lastrico che è un orgoglio di Sena e un ghedà in tutto e per tutto come sempre Davide reclam Aspedia e poi stai lì perché arriva anche quelle parole quelli sogni di Rossi Giung che mi ho perso arriviamo Liguria anche in diretta con Gianfranco Peretti per parlare di prevenzione dei tumori ovviamente con Professor Bampi con ha fatto le sue domande come tutti i venerdì però abbiamo parlato tanto di mangiare questo proprio su Bampi anche perché il mercoledì passò via Gianniguria l'estate dedicò interamente a Cristoforo Columbo e a lui parliamo un po' di mangiare questo e parliamo anche di agricoltura che è un amico in linea con Gnatri Roberto Cosso di profession prima parlando di passion in due r pellego anche olivicoltore e allora in tessue erbe vicino a casa se pigiò abbrega dei bagnali un po' volta con un bulacco il risultato è questo una vuscio muestra insieme agniatri il frutto del suo travaggio certosino in forma di condivision non so se la condivision prevede anche professore Bampi una bottigia d'io o sulle fotografie però ora Roberto buonasera buonasera buona tanto cerchiamo di capila eh niente ho detto molto no 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 momento no 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 a domanda lì a c'è due eh momenti sì sì due se vediamo un studio poi un po' se si si va bene ma eh per Bampi se vuoi condutture per Gianfranco per cortesia ma subiettuito per questi signori chi mi fa perché poi anche i cinghiali in tuo frattempo c'è mi stavo quando ho fatto questa fotografia stavo cagendo poi sentivo grugnì ho il suo faccia dico la mia che spettacolo perché mi cago a certo punto spettacolo spettacolo non è che teniamo pulito eh ah bene bisogna pigiare la cuscita seguo da quell'erbo là ma se sono in righi a due piccini ho detto un po' di pan e mi pigiava di mare come veramente sono di animali meravigliosi poi chi serviva in argomento senza fine stiamo scello io che le me mi veniva da di roberto quanti erbi di tigè e dunde tra l'altro allora mi sta qua segin ha una bella spalla di su segin dunca vuoi di dedato a punta decimo vedo i punti noi vedo campi mò vedo la guardia vedo tutto e questa bella spalla qui quando ho detto metti due olivi perché prima cosa l'olivo è l'erba da pace poi mettergli il terreno e poi senti il terreno e poi sempre verde e poi se non ci riesci a fare un po' d'orio sapeva proprio la ciliegina sulla torta e quanti eri ti gano avevo cominciato con 20 e poi arrivo a 50 e ho l'idea di mettere un po' di po' per mettere una di gena ma quante eri ti hai fatto in una stagione che è difficile anche per assiccite ho fatto 18 litri praticamente 120 chili cominci ecco quella pussaria è quella che mi ha salvavita ho fatto un belgio con il bagaggio e andavo tutti i giorni ho sempre in fila d'egua perché non ti galea a maneghetta ti ha netto avanti con il bulacco anche a maneghetta che è anche infiammato con la maneghetta a maneghetta è sempre l'egua di piovare non è niente l'acquedotto con la maneghetta pigiavo da quella che veniva sotto il tetto che è nata sul gente che malalimenta invece questo chilo ho scoperto proprio in scoperto sai cosa ma in estremi mi sono messo a fare anche questo ho fatto questo belgio che tutti i giorni mi gannavo i cinghiali a fare il bagno che trovavo sempre l'egua sporta quindi favo il bagno e poi mi pigiavo perché ci sortiva 20 i bulacchi che sono quelli che mi hanno salvato da tutte queste steche di getto un litro con 40 piante ti hai detto 40 perché poi sono 50 ma tutti non hanno preso ho capito ha domanda tu professor Bampi per ti e per Roberto Cosso cosa che domandiamo professor ma questa question chi ti fa io mi passiamo tanto mi fanno perché di getto l'intri e poi le sortiva anche quelle d'anno avanti ho visto che praticamente mi sempre sortiva ogni anno l'anno passò non l'anno passò mi sono che invece quest'anno ho detto mi faccio un po' più furbo e ho cominciato a giugno forse l'unica errore che ho ho fatto l'ho fatto che ho cominciato a Mazdo mi senti sì avevo da cominciare a Mazdo perché avevo sentito in servizio da Elisabetta Biancalani che i fiori con questa siccite chi invece dei fiori ne cinque ne fiori tre gli esperti di agricoltura che parlavo lì di arma e quindi forse mi si avverte un po' meno fiori comunque va bene mi ho cominciato una settimana a cregere quindi se rende il ladronissimo andiamo con il tocco del panno quando passiamo del lì come di però sai a buon colore è bellissimo bene prossimo anno a lui a Tiradupi via prossimo anno sì andiamo avanti bene però ne fa piacere contare questa storia De Pachun come l'ha detto proprio su Bambi perché De Pachun si tratta d'altra parte l'agricoltura in Liguria l'è questa anche le ha giusto a o delà di grandi marchi da anche visibilità a uomini e donne come queste grazie Roberto stani bene e complimenti ritorniamo aspettando le vostre voci mi raccomando e tu sento 640 77 un telefoni avverti risponde hai domande proprio su Bambi però Gianfranco a salutare una persona che ho visto in bassa frequenza chi è questo signore chi è con la riva è un maestro del coro di Alice che è una cosa spettacolare chi assaieva Alice Alice è un'associazione a livello nazionale non piccola come noi altri che si occupa dei malati di ictus e un maestro fa cantare i malati aphasici che hanno avuto problemi di disce e le nacchia praticamente non è una demura ma è una cura e io ho assistito a un coro di un maestro che lo vediamo e cantava ma se che penso un genovese è veramente commovente Sergio Micheli una buona seiana una buona seiana viatri amiciung alla quella di far cantare persone colpite da ictus come forma di terapia sfruttando in questo caso anche usenese le cuscine ho capito bene? allora assolutamente assolutamente è una forma importantissima di musicoterapia queste persone che sono state colpite purtroppo da ictus ischemia e quant'altro di questo tipo di patologie riesce tramite un canto tramite la musica e chiaramente aggiuntare dai logopedisti perché chiaramente è tutto un travaggio di re a recuperare in parte a parola ecco beh una cosa non da poco una cosa gigantesca non so se la nostra regia è pronta per centine e trenta secondi magari di questa esperienza che viatri e avviò non so da dove partiamo ma non è importante è importante rendersi conto del travaggio che fai perché poi lì Gianfranco è uomini e donne coinvolti uomini e donne e famiglia e buge e maria di chi ha avuto lì assolutamente e sergio viatri travagè però è prima di fare una rappresentazione come quella che vediamo gli altri abbiamo una prova settimanale tutte le settimane se vediamo oltretutto questo vuole anche in modo di poi socializzare e tra gli altri si fermò un gruppo veramente importante dove oltre al discorso di canto che è un discorso proprio del recupero sociale perché gli altri venivano e comunque vivano questa esperienza con entusiasmo che vi posso dire è eccezionale vi posso dire che da quando sono a prevo a questo gruppo a questo coro lecce quello che ho ricevuto quello che ho detto che credo che poi assi già filosofia anche del week assolutamente in infatti il maestro e musa concordo che se qualche dei nostri assistivi vuole andare a cantare con gli altri gli dà possibilità assolutamente ringraziamo anche lei perché cerchiamo di collaborare con tutte le organizzazioni che possono dare la mano a fare tutto bene assolutamente e chi vuole partecipare a Conviatri Sergio come puoi fare come se puoi interagire Conviatri per informarsi all'associazione Alice che è al centro a San Martino presso la signora Nicoletta Reale che è la responsabile e lì poi che diamo tutti i raguagli per poi venire a provare tra l'altro con un piccolo caglio per dire che domenica 6 ottobre la festa nazionale dell'afasia e vediamo la nostra fontana di Ferrari illuminare con un bello colore viola proprio per ricordare questo evento in quanto che questa patologia di icture e ischiamia pigia al 30% proprio l'afasia ecco ecco perché è nascita questo coro tia ecco Prontissimo Filippo Rusci il nostro regista con Luciano Castagnola ne mostra in tempo reale quella che è a Fontanga del Ciasso di Ferrari che Sergio Micheli ha menzionato dopo il reclamo vi facciamo sentire un tocchettino di questo ma se che penso che Gianfranco ha detto che mette i brividi assolutamente sapendo cosa dire Sergio grazie e complimenti per quello che fa un attimo se fermiamo solo un minuto andiamo in reclamo a spedire magari andiamo con un'esperienza che è restata vicua in tu fin settimana a Porto Antico di Sena a proposito di no gastronomia un'associazione come CNA la convogliò lì tante tante imprese che hanno aglietto i senesi ma soprattutto i foresti perché è un turismo a Sena anche in questo autunno e allora tre minuti di sintesi firme da Antonella Tollis e poi ritorniamo insieme con ma se che penso con le vostre bugie e con il soluzione del professor Bampi arriviamo manifestazione di grande successo con un afflusso di pubblico davvero interessante soprattutto per le imprese che qui vengono per valorizzare il loro prodotto e non solo per vendere ma proprio anche per far conoscere i prodotti tipici della nostra cucina prodotti che sono all'insegna dell'assoluta qualità per noi è un valore sperimentare lavorare con aziende che vogliano valorizzare i prodotti del territorio l'obiettivo è quindi quello di far vendere le nostre imprese ma anche di favorire la collaborazione un ruolo che CNA da tempo sostiene perché dalla rete dalla collaborazione nascono poi nuovi prodotti nuove sperimentazioni lo ha dimostrato lo show cooking fatto dalla chef Tina con il nostro Stefano Bruzzone del pesto di Prà che hanno insieme prodotto questo risotto al pesto fuori dalle regole ma che ha avuto un grande successo abbiamo pensato abbiamo pensato di unire due territori cioè che sono quelli della Lomellina dove troviamo le risaie e Genova il pesto è una salsa servita a freddo meglio di questa per mantecare un risotto credo che non ci possa essere credo che per la riuscita di un piatto la qualità di ciò che mettiamo nel piatto sia estremamente importante un buon prodotto non va rovinato sette ingredienti all'interno del mortaio quindi un'esplosione di gusto di sapori Appetitoso è una start up innovativa è un marketplace legato a tutto quello che è il mondo food vendiamo prodotti selezionati di eccellenza difficili da trovare nella grande distribuzione qui in Cucina Liguria abbiamo creato questo stand innovativo dove c'è la possibilità di comprare attraverso il nostro e-commerce oltre questo abbiamo voluto inserire quella che è un'esperienza virtuale per raccontare quello che è il mondo food unire quindi innovazione con la tradizione per sorprendere io porto sicuramente sempre il pandol genovese quello basso perché è molto ricco è molto burroso è proprio la tradizione genovese il segreto per mantenere il pandolce sempre umido e morbido è quello di adoperare un candito che sia già morbido di suo mettendo un candito morbido la pasta rimane morbida perché se lei mette un candito asciutto si tira via l'umidità della pasta nello stesso tempo il pandolce deve essere fatto col burro e non con la margarina per la cucina sono necessari anche dei buoni accessori e noi abbiamo portato i nostri sottopentola realizzati a mano e poi abbiamo dei porta mestoli e dei porta asciugamani e strofinacci inerenti alla cucina l'obiettivo l'obiettivo di CNA è ovviamente favorire lo sviluppo delle imprese noi lavoriamo per la difesa anche in questo momento sappiamo che il grosso problema delle bollette esiste è una spada di Damocle sulle imprese però noi pensiamo che bisogna sempre guardare al futuro e guardare allo sviluppo e favorire la collaborazione tra imprese significa favorire il territorio e favorire lo sviluppo delle imprese e del territorio Liguria ancora in diretta come tutti i mineri di Seia e sediva a musica e anche a usenese può servire come riabilitazione anche dopo un ictus e sediva con il mestre Micheli ma anche con Gianfranco Peiretti mi è in massa che penso come può essere canto da gente che l'ictus ha la view e ha la pro in qualche modo ha metto a spalle andiamo a sentire 30 secondi ai Angie venendo a terra a caparazzi noi vortimo vedo a cella se tra e l'ultima venendo la fulgure me Siamo a quarto, nell'ex manicomio, e hanno fatto questo concerto veramente toccante. Poi hanno fatto tutta una parte in italiano per ammudire, ma questo qui è stato veramente un momento toccante. Per chi seguisse Liguria anche solo da Oua e non avesse sentito quanto è modito prima, questi signori, queste signore, sono un pelato, gente che ha subito un ictus. Un ictus, esattamente. Sono tutti i Marotti che stanno provando a riabilitarsi, a parlare di nuovo. E' una cosa particolare che cantano solamente con su un vege, perché le vege se ricordano, quelle nuove non riescono a cantare. E' una cosa che veramente tu canti. Ho solo il cervello, incredibile. Perché lì viene andato via un tocco del cervello, quando viene un ictus. Sì. Ne ho parlato con il maestro Micheli. Ne parliamo anche voi in te con Massimo Traverso, quel altro maestro musicista che si occupa di tante cose ai spalle di Sena, del gospel, del musical. Ben, Massimo, ti ne domandò di intervenire e gli altri siamo contenti di avere te con gli altri. Cosa ha lasciato un'esperienza di questo tipo? Ma allora tanto buona sera. Ciao. Ciao Massimo. Gli altri abbiamo cominciato una collaborazione con WeCare, con l'associazione dell'amico Peretti, perché i miei peretti sono colleghi di Travaggio. E una volta così, in quel periodo del Covid, mi mandò anche un tocco per ringraziarlo della sua vicinanza in quel momento particolare, mi mandò un tocco del coro gospel e da lì le comincia questo interesse reciproco a quello che fa Valè e quello che fa su me. E ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati in questa avventura e gli altri, ma tanto per WeCare, siamo stati coinvolti in questa cosa. Ho seguito una cosa che penso del coro Alice e veramente è una cosa bellissima. L'amministrazione con il canto serve a giustare, a stare insieme e a curarsi. Ci sono anni che con l'associazione nazionale Cori con l'Atenearco cerchiamo di far conoscere anche l'importanza sociale di Cori, perché i Cori servono anche a persone che sono sulle, a persone che hanno problemi, che servono anche a sciolti un po' da quello che lo è, a solitudine. Grazie Massimo, una buona sei anni. Gianfranco credo è un attestato ulteriormente importante, non che ne ha bisogno, ma credo che... Mi devo ringraziare Massimo, perché non soltanto per il canto e per gli altri, ma anche nell'ultima iniziativa che abbiamo fatto, che stiamo recogliendo i prodotti per i pazienti in questo mese, che le dedicò alla prevenzione del tumore ausente, che è una malattia tipicamente femminile, in prima persona lo è annetto in questa farmacia a raccogliere i prodotti, quindi a Sararico, se siamo anche a Sararico, dobbiamo a Massimo. Bene, grazie veramente a entrambi. Grazie Massimo. Ritorniamo in studio, perché il professor Bampi non deve ricordare gli ultimi minuti delle trasmission per rispondere alle sue domande, ma poi menzioniamo anche cosa succediamo a martedì in compagni. Le domande sono queste tre. Chi è? Lei viste? Chi si mettesse in comunicazione cugnatri sull'Uowa? Girello, professore? Girello, poi il crogiuolo, questo qui, e infine il grumolo, la parte bianca interna della... Per esempio... Regattiva, ve l'è mudita l'Elastrico. Cosa succede martedì in compagna? Martedì 18 ottobre, sempre a Sincue, nell'aula di San Salvatore in Sarzano, ci sarà Aldo Padovano che ne parla di una cosa curiosa, le invettive contro i genovesi. Intanto ridemo immagini del grifo d'Ou che uscì di quella uscita a compagna. C'è una cosa curiosa, martedì perché? Perché parliamo delle invettive, perché c'è stato un minuto di persone che non parla di Zeneci, cominciando da Udante, a Genovese, gente diversa, pieno di minima caglia. Insomma, e lei lo fa. Aldo Padovano ha scritto dei libri di Ciassoia di Sena e ha scritto però sempre con un po' riguardo, un po' all'aneddoto, un po' alla cosa. e quindi c'è una cosa veramente divertente questa, di sentire cosa gli altri hanno detto da Gnatri. Gnatri, poi se puemo, diemo peso. Gnatri, invece, in questa trasmissione che alterna cose spesse, cose più leggere, che ho Gianfranco, mostriamo a tutti cosa succede invece domenica a Musalla, paese che tutti conosci bene, e vogliamo dirlo con un'altra gente che ha sedato in grande affa per animare sportivamente l'entraterra, Simone Bogatto, per esempio, il loro precedente da Scuderia a Valpolcevera, e ben domenica a Musalla, che è un motorday, cosa è il giorno di muturi. Simone, cosa succede a Musalla a domenica? Ciao. Buonasera a tutti. Cosa succede da quelle parti lì a Lua? Non ho capito, scusa. Cosa succede domenica a Musalla? Domenica facciamo un po' di rimescio, come si dice. Mi raccomando, eh? Mi raccomando, dice chi è il tuo amico. Il settimo Musalla a Motorday, Gianfranco. Ciao, bello. Ma rimescio di che tipo? Che macchina che è? Allora, questa è, diciamo, l'inventaggio di macchina è abbastanza grande, da sportive moderne a storiche, che vanno dagli anni 50 fino agli anni 90. In città da un pa' d'anni abbiamo fatto una selezione di automobili moderne intorno agli anni 2000, perché ormai vediamo Vergi e gli anni 2000 le hanno vinti anni fa. Ma chi vuole vedere questo spettacolo c'è quattro ore deve venire a Musalla o dove? Allora, a Musalla mattina in Ciasa Colombo che c'è l'esposizione di partecipanti, di auto partecipanti e a pomeriggio da due ore in poi dopo che le macchine le abbiamo fatto in giro della 50 km in Ciestre da Valle Scrivia che sai ha un circuito costituito il circuito di Busalla divertente ma non troppo veloce che gli altri tutti gli anni aprontiamo in questa parte diciamo periferica del paese e da quest'anno anche il suo ciasà dell'IPLOM che è un estetto messo a disposizione anche grazie all'intervento dell'amico e collega Gianfranco Peiretti dove i partecipanti adesso possiamo facendo questa gincana questo circuito e dove anche possiamo far divertire un pubblico che intervenga allora domenica un spettacolo se puoi dire l'inizio da dei gioie in avanti via? anche prima come si cominciano a fare l'esposizione delle macchine seguo allora professore Bampi trilla i telefoni vediamo se intanto che qualcuno risponde alle domande lo dice sempre il professore che il sport non è d'accordo anzi basta che lo facciamo gli altri però il volante l'ho visto ben ben aggressivo anche stasera quando l'arrivo l'ha ben ben grintuso eh? sì lì ho imparato a guidarci e continuo a guidare in quel modo lì finchè lei mi fa vedere se che passo non che passo seguito bella questa macchina di swing passecchi lei in linea Cugnatri che è una telefonata? no al Keita e allora cosa ti voglio dire agli amici e amiche che tamigano Simone per domenica allora vorrei dire che questa iniziativa di Busalla Motor Day bisogna ringraziare l'assessorato sport del comune di Busalla perché è stata un'idea eh come ti diceva dell'assessorato sport del comune e gli altri abbiamo messo eh l'aggiunto e la nostra esperienza dal punto di vista dei motori e ne approfitto anche eh per ringraziare Iplom che l'ha messo a disposizione eh le sue aree perché senza delle quelle quest'anno non avessimo eh portare a termine l'iniziativa che meraviglia bene Simone grazie complimenti anche a Viatri per quello che fai per l'impegno che che mettei ha bisogno non vi fai mancare niente assolutamente no abbiamo un sacco di colleghi di amici che sono veramente bravi ha un solo problema che non ti raccontano mai queste belle cose che fai e devo sempre scoprire da un fattore da un comune ma non mi raccontano mai perché poi me ne me ne è in possesso bene e allora grazie a Bugatto siamo pronti per dare per farvi sentire quella canzone che ha fatto un favile che ha conquistato un po' tutti in tuo dialetto di russi giù in minuto di reclamo di pausa e poi il gran finale arriviamo conclusione della trasmission a lui in questo venerdì sei a metà d'ottubre professor Bampi a questo punto bisogna dare soluzione delle domande che abbiamo fatto una buona partecipazione all'inizio da puntare gandetu o nugandetu ciò o meno ciò o meno tenendo presente che sono parole difficili il più facile è il girello che si dice carie carie lo vediamo carie poi il crogiolo si dice curse si e il grumolo cambia la o in a quindi carse sono parole simili quindi carie curse carse sono parole simili che però vogliono dire tre cose diverse sono parole nostre registrata quindi tutte cose parole regolari dimmo così penso che se deviamo pochissimo perché chi ha l'occasione di parlare di un crogiolo ma anche in italiano quante volte avevo mille parole crogiolo tra l'altro poi il registro mi domanda cos'è? crogiolo e se io vanno a fare effetto per fonde per mettere una roba fusa a Trento e quindi quello lì deve registrare a delle temperature elevate o sarei mi paiva che invece saverdua o l'avessi menzionò qualcosa di gianco? gianco sa io vanno un altro modo di dire però se uno deve la parola o deve carse se uno deve però anche il grumolo l'ho detto tutte le volte non so quanto sia chiaro in italiano quanti sapessano la parola grumolo quindi le angonci difficili in senese però parliamo delle parole viagge e anche interessante scruvile riscruvile grazie speciale questa sei a Filippo Rossi Luciano Castagnola che ha fatto i straordinari in tena sei anni che l'ha messo insieme tante attività dell'entrotera del re d'esena in questo fin settimana attivo più che mai ma l'ha messo insieme ha un delà da genuinità da spontanità anche qualcosa di cui ricerco come We Care questa associazione che ha sedato in grande affa per la prevenzione di tumori e non solo 24 o 6 a tutti i arunchi per questa sei anni in Tuccine Columbia per la prevenzione e poi cosa l'è che noi abbiamo udito Gianfranco Pieretti iscrivete seguite il nostro sito e seguite con due palanche noi altre devolviamo ai pazienti oncologici quelle nostre iniziative che troviete nel nostro sito complimenti veramente a tutti i volontari di questa associazione a Cerchela anche in Re complimenti veramente dito questo complimenti anche proprio su Bampi Peo Grifo che accompagna la conquistò come ho menzionato mercoledì 6 e come ho detto in avvertura di trasmissione e ho promesso di mantenere perché facciamo un passo in dire e ritorniamo al festival del Campo Mond e beh in tanti mi domandò di risentire quei sogni che arrivano da Russia giù si capisce o non si capisce cosa è successo in quel matrimonio lì? Ma... ciò o meno si intuisce si intuisce ecco io un po' di cose non so se li inventa magari si si e poi attirare lì te che la giutta la trama è proprio quella del matrimonio dove succede il peso del peso Gianfranco grazie professor Bampi grazie come sempre precisi puntuali se vediamo tra 7 giorni venerdì prossimo signoria poi vediamo sin giù Gnacchi e Firbe Gnacchi e Firbe grazie grazie che c'era? a me? ma è smorta non stai bene? ma ancora un po' di cabri giù e mangiare troppo come al solito fitto a toa che l'è pronto fitto a toa che l'è pronto su un don un matrimonio non è successo un pandemonio è successo è successo molto bene mezza onda dall'aperitivo fino al digestivo è sempre mangiò la soglia è con il gusto con le prese i cali e il gioco che perde e vevida solito un giro un giro un giro un giro un giro la testa un giro un giro un giro «Aia, aia, 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 aia» E n'i posto accentrè, Anche se dà un po' malponsa, Torni tutt'una pintonza, E fai un settembre. Aia, 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 Midori,ugerda, Aia, 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 Che fisce tot anetti, Cosi gamberetti, saltini da fumigdi, Oh, a panza lui è forte, ma un arrivo d'urde, è bello e che tre. Panna, non cioccolato, celato affogato, purta faccia cacao, che goduria. Oh, sto vincendo bene, a stagia tutta c'era, a stagia che la vera. Aia, 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 ma lui ha detto i tempi. Aia, 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 aia. Ma lui dice funny. Ma lui ha detto, oh, aia, ma lei c'era. Aguario, uva, yüz暑e, Őšššš', per chò un vande forte e va qua di che è forte Sì, tu Uriva un brunno al muro Che qua forza di toro Cu calcianza buonanza Mi è crì un po' la panza Femme una risponanza E sto un po' cuve Mi è crì un po' la panza Femme una risponanza E sto un po' cuve E sto un po' la panza E sto un po' la panza E' meglio Anche me Mi è meglio messa Madonna, devo fare la dieta